Rimango sul merito tecnico della questione. Il merito tecnico è che nel 2014, aggrapparsi a una norma del 1970, che la sinistra di allora non votò, perché la sinistra di allora non votò, è come pensare di prendere un iPhone e di dire dove lo metto il gettone del telefono. È come pensare di prendere un giradischi e metterci la chiavetta USB. Pensare oggi di utilizzare l'articolo 18 come la nostra battaglia è prendere una macchina fotografica digitale e cercare di inserirci il rullino. È finita l'Italia del rullino. Rivendico per la sinistra l'Italia del digitale, l'Italia del domani, l'Italia in cui si possa dire con coraggio e anche con determinazione che le forme di tutela non possono valere soltanto per quelli che hanno più di 15 dipendenti. Devono valere per l'artigiano, per la partita IVA, per la mamma disoccupata. La maternità è un diritto per tutti, non solo per chi è garantito. Questo è il Jobs Act. Ditelo ai vostri amici che sono andati in piazza. Questo è il Jobs Act. Maternità per tutti. Stop ai co-co-co, co-co-pro. Contratto unico. Questa è la sinistra che vogliamo.